Musica Oggi, come abbiamo segnato su registro, compito in classe Allora, sarà come vi ho già detto molto facile Adesso vi rileggo il testo comunque Così capiamo benissimo le domande tutti insieme E poi se avete dubbi mi richiedete ovviamente Io sono qua, se c'è bisogno, uno ad uno Se volete potete alzarvi e venirmi a chiedere quello che volete Se non sapete qualcosa, un indizio ve lo posso dare Però piccolino, eh Niente, non è difficile e buon lavoro Uffa Uffa, non ci voglio niente Quattro per due Fa Quattro per due Quattro La mamma mi ha insegnato che bisogna contare Se non si ricorda bisogna contare più quattro Quindi quattro o più quattro Cinque, sei, sette, otto Quindi quattro per due fa Buongiorno ragazzi Oggi, come sapete, verifico in classe di fisica Vi do trenta minuti Per trenta quesiti Ho fatto questa cosa proprio perché Per mettervi alla prova Anche perché sono anche molto, ma molto semplici Sì, puf Quindi, niente, io vi lascio E buona verifica La verifica di fisica facile Ok, leggiamo il primo esercizio Stima la forza di attrazione gravitazionale tra il sole e la terra Supponendo che la massa del sole è tua La massa della terra è 6, 124, 24 kg E la distanza media tra il sole la terra è 0,15, 1000 e 12 km Spiegate perché è più facile e scrivo il moto della massa del sole a 2,4 terra Buongiorno Allora, questa è la prima ora E sapete già che dovevo interrogarvi E avete studiato? Io maestro E ci sono volontari? Io maestro Ho studiato tutto, so tutto, so tutto, so tutto, so tutto Lo giuro, lo giuro, lo giuro Io so tutto maestro Non interroghi gli altri compagni Interroghi me, me, solo me Madonna, ma quanti volontari avete tutti studiato oggi Ma che bravi i miei alunni Partiamo da... Da chi? Da Sara? Ok, bene Sara interrogata Io so tutto Buongiorno ragazzi Oggi interrogazione a sorpresa No, 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 no Ci sono volontari fra di voi che hanno studiato Almeno, 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 no Anche se non sapevano Che c'era l'interrogazione E se mi nascondessi dietro il quaderno? Comunque non è una scusa plausibile Non aver studiato Perché bisogna studiare passo per passo Ogni volta Non fissarla in faccia Se no ti interroga Se non la guardi non ti interroga Ok, non guardarla, non guardarla Chi esce? Viene qua No, 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 no Bene 13 Interrogata Prof, un mancamento Ah, senti? Mi potresti dare La tua Merendina? No, è mia No Questa è la merenda Che mi ha dato la mamma E non ti do neanche un pezzettino Perché La tua mamma Non ti ha preparato la merenda E non ti do la mia merendina Ma Hai un'altra merendina Vuoi far scambio? Ce l'hai al cioccolato? Facciamo un scambio? Sì, facciamo un scambio Che bello E senti Non è che avresti Due spicci? No, perché Vorrei prendermi la merenda E ti prego Non ho proprio Niente Anche 50 centesimi Ma sto qualcosa Ti prego Sto morendo di fame Marta Hai due centesimi? Cinque? Dieci? Quanti ne vuoi? Grazie E Giulio Non copiare Ti avviso Non copiare da me Spostati qua davanti Signorina No 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 Mi la seguì Maesta Mi la seguì Non copio più Gioro Non copio più Non copio più Stavo solo L'ho messo la parola apposta Eh L'ho messo apposta Non copio più Non copio più E E E Prof Io non stavo copiando Stavo chiedendo Non avevo capito un esercizio Ridammi la verifica Si te la ritiro Due E Come materiale scolastico Dovete avere Ovviamente Una penna Che non sia Nera Deve scrivere Assolutamente Blu Perché io Le penne nere Le bandisco Ok Non usate il cancellino Piuttosto Tirate una riga Senza il cancellino Per favore Che è bruttissimo Da vedere E poi Comprate Assolutamente I quaderni Con i margini Non voglio vedere Queste schifezze Ero anche Ero anche il quaderno senza Senza margine No Devo ricomprare Tutto Sentite ragazzi Per il primo giorno di scuola Sapete che adesso vado Un po' a spiegare in generale Quello che faremo Nel corso dell'anno E comunque Non vi dico cosa comprare Perché sapete già Ragazzi Vi basta Una penna E neanche un quaderno Un foglio A me basta Che scriviate Sì prof Io non ho Solo un foglio Ho una penna E un quaderno Like a boss Oggi ho portato Troppe cose Nell'utaino Sì sì Hai ragione Anche ho portato Tutti i libri Oggi Avevo Mi pesava tanto E che Ho troppi libri Devo portare Storia Italiano Il quaderno L'altro libro Mi cade tutto Non ci faccio più Peso troppo Un altro quaderno ancora E poi addirittura Due astucci Due Due astucci Quelli dei colori E quelle delle matite Ieri mi è venuto il panico Sai Mi sono dimenticata Il quaderno Di geografia sotto il banco Non sono riuscita A fare i compiti E mamma mia Per fortuna che c'era la mia amichetta Giulia Che aveva il libro E è venuta a casa mia E mi ha aiutato a fare gli esercizi Perché sì Anch'io se ne ho portato tutti i libri Che pesano tanto Il mio zaino non pesa niente oggi Ho portato solo il quaderno di diritto Libretto È una penna che ho sul banco E basta Non serviva tanto oggi Non pesa mai niente il mio zaino Spero che il video vi sia piaciuto Se sì mettete un pollice in su E commentate qua sotto Qual è stata la scenetta Che vi è piaciuta di più Io mi sono impegnata tantissimo Per questo video E niente Scusate se tremo Ma stendo la fotocamera in mano E niente Noi ci vediamo al prossimo video Un bacione E ciao Ciao Ciao